Buona giornata a tutti cari amici, sono Pierfrancesco Mergarovere. Oggi desidero condividere con voi l'esperienza del 4 for you, i 4 per te. Questa è una pratica molto semplice per riuscire ad amarci un pochino di più. È stata creata per chi pratica il Reiki Gratitude, una scuola speciale di Reiki basata sulla gratitudine. Però è una tecnica talmente potente ed efficace che desidero condividerla anche con chi vuol praticare la naturologia epigenetica e chi si sente parte del Gaia Family Ashram, cioè di questa comunità mondiale che vede nella Terra la mamma, il grande ashram che ci accoglie tutti, nel quale poter sviluppare il nostro amore, rispetto, comprensione, sostegno reciproco. Prima di iniziare consiglio a tutti di bere dell'acqua, se possibile con della vitamina C. In questo modo energizziamo il nostro organismo e lo rinforziamo contro le aggressioni. Adesso che abbiamo bevuto possiamo metterci in questa attitudine di benessere verso noi stessi. Immaginiamoci in un grande arcobaleno che ci protegge pieno di colori. Questo arcobaleno zampilla dal nostro cuore, da sopra la testa, ci avvolge come un uovo, un uovo di protezione e siamo all'interno di questo meraviglioso arcobaleno, un arcobaleno di benedizione, di amore, di luce, di magia, di fantasia, di rigenerazione. Facciamo tre respiri lenti profondi percependo la bellezza di stare in questo arcobaleno e l'arcobaleno sapete che rappresenta la vita che ricomincia dopo la pioggia, dopo la tempesta e quindi è un invito al nostro inconscio per riprendere a vivere in un modo nuovo qui e ora. Dobbiamo ringraziare Musaro Emoto che ha scoperto che l'acqua memorizza quello che pensiamo, quello che scriviamo, quello che proviamo. Praticamente l'acqua è una banca dati che ci ritrasmette quello che noi vi abbiamo messo. Siamo fatti del 70% di acqua, quindi ogni nostro pensiero, stato d'animo, resta nella nostra acqua e quest'acqua, vaporizzando o comunque emanando delle energie, in qualche modo ricrea attorno a noi l'ambiente nel quale l'abbiamo programmata. Per cui è meglio programmarla nel modo migliore. Capiamo a questo punto che se noi non ci amiamo è difficile essere amati, capiamo che se noi non ci rispettiamo è difficile essere rispettati perché l'acqua, cioè la nostra struttura vibratoria emana quel tipo di frequenza specifica che abbiamo immesso. Allora a questo punto come facciamo? Mettiamo le mani sul cuore perché nel cuore passa continuamente il sangue e il sangue è formato di acqua e manteniamo un atteggiamento di gratitudine verso il nostro cuore. E pensiamo grazie cuore, ti voglio bene, ti ringrazio perché qui ora mi mantieni vivo. Grazie sangue perché qui ora sei presente in me e grazie a te vengo ossigenato. E poi abbiamo i linfatici, tutta la catena che ci depura, quindi grazie anche voi per il meraviglioso compito che svolgete ogni momento per me. Grazie, grazie, grazie. E poi ci sono le cellule, grazie cellule. Ringraziamole perché grazie a loro noi siamo vivi, grazie ai loro scambi, grazie all'immunità che svolgono per me. E dentro ogni cellula c'è la memoria, c'è il DNA che è fatto dalla memoria di mio papà, di mia mamma, dei miei nonni, dei miei avi. Grazie alle loro esperienze io oggi sono qui, vivo e posso fare la mia esperienza. Per cui grazie a voi, grazie ai genitori, grazie a tutti voi per le informazioni che mi avete trasmesso nel codice genetico. Forse la vita vostra non è stata come quella che avrei desiderato, però avete fatto il meglio che potevate, quello lo so. E quindi vi benedico e vi ringrazio per il dono meraviglioso di poter essere vivo. E grazie a questi dati che ho in me, perché grazie a questi dati non ho più bisogno di fare le vostre esperienze, perché sono già in me e posso andare avanti. Grazie, grazie, grazie. E poi ci sono tutti gli organi che costituiscono il mio corpo e grazie anche a voi. Inoltre abbiamo il cervello. Grazie il cervello. Grazie perché grazie a te posso pensare, provare emozioni, stati d'animo, immaginare, creare, sviluppare dei progetti. È meraviglioso. Grazie di tutto. E per chi crede nei chakra, nelle energie, nei meridiani, nelle aure, e beh, grazie meridiani, grazie chakra, grazie aure, perché in ogni istante mi difendete, mantenete funzionale il mio organismo a ogni livello e mi proteggete. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. Benedico tutti e benedico anche a me. A questo punto possiamo riprendere la nostra acqua e terminiamo il bicchiere. Con questa semplice pratica abbiamo mandato un po' di amore a noi stessi. Consideriamo che il sangue per fare tutto il giro impiega sui 20 secondi, quindi in un minuto l'avremmo fatto sicuramente, avremmo informato tutte le nostre cellule che abbiamo rispetto verso noi stessi e gratitudine. Possono succedere delle cose veramente speciali. Vi auguro di sperimentarle e lo auguro soprattutto a te. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. Benvenuti tutti nella grande famiglia del Gaia Family Ajram. Ti sarei chiesto perché Fall for You? Perché questo esercizio consiglio di eseguirlo quattro volte al giorno. In questo modo il tuo corpo sarà continuamente rigenerato e tu potrai ogni giorno sentirti più amato e attirare a te l'amore, le benedizioni, la prosperità e l'abbondanza per vivere una vita sempre migliore. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto.